Hai sempre cercato un programma che soddisfacesse e rispondesse a tutti i tuoi quesiti riguardanti l'esercizio fisico, che cosa mangiare e la riabilitazione? Se la risposta è sì, ci abbiamo pensato noi con questo programma in diretta su Pano TV. Vi presentiamo... Il Salute! Il primo programma che parlerà di salute a 360 gradi, con vari professionisti che ci saranno e ci aiuteranno nelle dirette, quindi tanti ospiti. E avrete anche la possibilità di interagire con noi direttamente da casa. E abbiamo preparato per voi tantissimi premi. Prossimamente su Pano TV. Restate connessi!